Ciao a tutti gli amici di Blogosfera, la vostra blogger Anita mi sta intervistando, ma non è un'intervista, è un invito. Voglio invitarvi a Zelig a vedere Nasdarovia, che è il nuovo spettacolo che faccio insieme a Stefano Chiodaroli, dove facciamo davvero i pazzi senza rete. Ed è appunto a Zelig il 9, il 10 e l'11 giugno. Se venite ci fa un grande piacere. Adesso c'è un'altra pazza che sta irrompendo qua. Eccola qua. Lei è Nora, sicuramente verrà a vederci. Ciao Blogosfera, venite a trovarci.